Ragazzi, amici di Radio 105, oggi una grande prova per Annie Mazzola, Balla con Annie, versione Zumba Bernie Tapp, la prima coreografia I liked di Cardi B, che Dio me la mandi buona. Bene, dopo questa prima coreografia, seconda coreografia, veramente proprio roba di Zumba seria, Azukita, questa non è proprio il mio genere ma posso impegnarmi. Traciσιmo vendermi, sui dei nuovi 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 unknowns. Onlati 3 di assure, trasmaggio rapsami, suonato suonato, benunanti di assure, trasmaggio rapsami. Grazie a tutti.